Musica Quella che vi raccontiamo oggi è una vicenda crudele, un traffico internazionale di organi che interesserebbe anche il nostro paese. Non solo dunque esseri umani sfruttati, ridotti in schiavitù, ma anche questa ipotesi terribile di essere umani fornitori di pezzi di ricambio per chi, come al mercato, è orribile da dirsi, può permettersi di acquistare un rene o una cornea. Naturalmente ipotesi tutta da verificare. Di questa tremenda indagine parleremo oggi anche del contesto in cui si situa, che veramente mette a rischio la dignità umana. Lo facciamo con gli ospiti che sono qui. Bentornata, Suorgenia Bonetti, missionaria della Consolata, presidente dell'associazione Slaves No More, mai più schiavi, che mette in campo tutte le forze contro la tratta. Bentornata anche Flavia Petrin. Di professione è infermiera ma guida l'Aido, l'associazione italiana per la donazione di organi, di tessuti e cellule. Bentornata e benvenuto anche al collega, amico ormai di Siamo Noi, Massimo Lugli. Grazie a tutti voi di essere con noi. Suorgenia, io vorrei partire con una domanda preliminare. Ma oggi gli schiavi esistono? E come? E li abbiamo a casa nostra? Non abbiamo bisogno di andare lontano. Basta solo fare un giro sulla salaria. E noi possiamo vedere quante donne schiave oggi. Schiave dei nostri sistemi politici, dei nostri sistemi di vita, dove oggigiorno tutto si può comperare, persino il corpo di una minorenne. Questa è schiavitù. Suorgenia, se dovesse con un'espressione dirci in che cosa si differenziano gli schiavi del XXI secolo, del 2000, con quelli di cui sentivamo parlare, di cui leggevamo nei nostri libri di storia, che cosa direbbe? Non c'è nessuna differenza. Perché la persona di allora era trattata come un pezzo di cosa da usare, una qualsiasi realtà. E oggi è altrettanto la stessa cosa. Solo che una volta questa realtà era un po' camuffata. Adesso tutti, andate sulla salaria, vi rendete conto una notte quante centinaia di donne sono il loro giovane corpo, i loro sogni, le loro aspettative sono messe in vendita. Proprio perché provengono da una grande povertà. E noi crediamo di poter comperare anche la povertà. Ecco, lei lo ha detto con grande chiarezza, suorgenia. E su questo ci mette in guardia anche l'osservatore romano, sul fatto che nel mondo c'è una parte di persone che considera l'altro una merce. E questo avviene peraltro, e anche questo dobbiamo confessarcelo, nell'indifferenza generale. Assoluta. Perché se noi consideriamo che in Italia abbiamo circa da 90 a 100 mila donne che ogni giorno, ogni notte sono messe sulle nostre strade di un paese cosiddetto civile, cristiano, cattolico. Ecco, e noi pensiamo a queste donne che vengono da paesi poveri, dove una volta i missionari andavano a portare un messaggio di salvezza, di liberazione, di bontà. Questi giovani, queste giovani vengono riportate oggigiorno nei nostri paesi cosiddetti civili ed emancipati. E che cosa trovano la schiavitù? Terribile quello che raccontiamo. Abbiamo, così all'uso, abbiamo menzionato in apertura un'indagine che sta svolgendo, vediamo il titolo del mattino, traffico di organi schiavi, schiave sesso. L'inchiesta, appunto, la sta svolgendo l'indagine dell'FBI, è un'indagine internazionale che conduce anche all'Italia. Naturalmente tutta da verificare, ma detto questo ci puoi riassumere un po', Massimo, che cosa emerge dagli articoli dei giornali che ce la stanno raccontando? C'è un traffico? Sì, questa è una notizia che nasce come un sussurro, diventa un terremoto nel corso dei giorni. In realtà non è nuova, perché l'indagine sarebbe di almeno un anno e mezzo fa. Mi tocca precisare una cosa, l'FBI non indaga in Italia, non funziona così. L'FBI arriva con delle notizie investigative e poi indaga la polizia. Esattamente, come è successo. Non l'abbiamo semplificata come colleghi. No, perché se no sembra che da quantico non funziona così. Però, ultimamente, nelle ultime ore, arriva una conferma di altissimo livello, procuratore nazionale antimafia, Cafiero, che conferma l'inchiesta, finora mai confermata neanche dall'FBI, neanche sul sito dell'FBI, non se ne parla di questa indagine, conferma che ci sono questi accertamenti, anche se non c'è alcuna evidenza. Che cosa sta emergendo? Ci riassumi brevemente per far capire il nostro motivo. Adesso noi sappiamo che a Castelvoturno, dove vivono 20 mila... Siamo sul litorale Domizio, in provincia di Caserta, ai confini con Napoli. Che è praticamente la più grossa concentrazione di mafia nigeriana, ricordo, divisa in tre grandi gruppi, che si chiamano Black Axe, Vikings ed Eye, che è il gruppo gemoni. In questo momento sono state anche guerre in Niger. Da lì, dove vengono smistate le schiave del sesso, di cui parlava Suare Eugenia, alcune, secondo voci, sarebbero state mutilate, private sostanzialmente di un rene che verrebbe spedito negli Stati Uniti. Tutto questo l'FBI ci arriva con un traffico di denaro attraverso money transfert e anche Paypal, altri sistemi. Insomma, un traffico anomalo anche rispetto a quello delle schiave del sesso. Flussi anomali di denaro, insomma. Flussi anomali di denaro. Sono apparse, vorrei precisarlo, delle foto sui quotidiani in cui si vede qualcuno con una cicatrice. Quelle foto sono fake, perché sono foto, sono reali, ma sono di altre situazioni. Nessuno, per ora, ripeto, nessuno ha accertato che questa realtà... Si sta indagando. Però l'indagine c'è. A dirglielo. L'indagine c'è. E sottolinearlo. A questo punto, Petrini, dobbiamo però spiegare al nostro pubblico che la donazione di organi è invece un atto d'amore straordinario. E oggi più che mai occorre sottolinearlo. Sì, vicino a queste notizie che abbiamo sentito dagli ospiti, a me piacerebbe invece raccontare una bella realtà, che è quella della donazione. Oggi siamo così presi da queste notizie che destano interesse. Mi piacerebbe invece che quello che destasse interesse fossero anche le belle notizie. Ogni giorno abbiamo persone che in Italia donano a favore di altre persone che veramente tornano a fare una vita piena, a rifare i figli, a rifare i genitori, a rifare i colleghi di lavoro e gli amici. Persone che grazie a un dono anonimo, gratuito, veramente tornano a una vita eccezionale. Ecco, accanto a queste notizie che fanno male, che portano veramente a una situazione in cui la dignità viene calpestata, in realtà invece noi abbiamo un paese in cui la solidarietà è veramente una cosa da sottolineare. Cruciale sottolinearlo. Lei ci ha detto che ci fa male confrontarci con notizie di questo tipo. Però ecco, quelle sono notizie che forse devono essere... Ecco, verificate. La donazione invece è una cosa certa. È una realtà che cresce, vogliamo ricordarlo. Cresce negli anni, è cresciuta. Magari c'è qualche battuta del resto quest'anno, ma il trend è in crescita. No, allora diciamo che gli ultimi tre anni sono stati anni eccezionali. Il 2017 è partito veramente molto, 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 molto positivo. Dopo un 2016 molto positivo rispetto, diciamo, agli anni precedenti. Il 2018, diciamo, si mette a cavallo fra il 2017 e il 2018, però per il terzo anno consecutivo le persone in lista d'attesa per RENA stanno diminuendo. Questa è una notizia magnifica. Massimo ci ha raccontato questa inchiesta confermata, embrionale, che vedremo dove porterà. Però è certo che la zona interessata in Italia è Castelvolturno, sull'Eugenia. Siamo, lo dicevo prima, sul litorale Domizio, dove peraltro anche il tasso di prostituzione è altissimo. È una delle strade del sesso a pagamento, no? Per eccellenza. Anche con, vado in pari passo con la salaria, eh. A Roma abbiamo la salaria. Ecco lì a Castelvolturno è il fun... Ma anche noi a Roma abbiamo una strada particolare chiamata salaria. Basta andare di giorno e di notte che si vede la stessa. Sono le due arterie, lei direbbe. Sì, sì, sì. Castelvolturno. Lì c'è un elemento che a Roma non c'è. Io la salaria conosco bene. Se avessi 100 lire di allora per ogni servizio che ho fatto sulla prostituzione salaria sarei per per 1. Qual è la differenza? Che lì ci sono i casalesi. I casalesi, che come sappiamo è uno dei clan camorristici, recentemente ha subito degli smacchi, ma è uno dei potenti, inizialmente accolgono questi immigrati e ne fanno mano d'opera. La mia interpretazione, ma non è solo mia, è che questa è una bomba che gli cresce in mano. Nel senso che probabilmente le due organizzazioni all'inizio sono una subordinata e l'altra egemone. Adesso gli equilibri stanno cambiando. Basta andarci, lì la mafia nigeriana, ci sono queste connection house, che sono posti dove vengono smistate queste disgraziate, poverette, e soprattutto dove arrivano gli ovulatori, che sono l'altro grande business della mafia nigeriana. Quelli che trasportano la droga, spogliamo. I corrieri della droga che ingurgitano. Abbiamo una testimonianza recente che parla, ahimè, orrendo da dire, ma di un ovulatore che non riesce a espellere tutto il contenuto. E allora che fanno? Aprono il contenitore, fanno a pezzi l'ovulatore e i pezzi vengono distribuiti a gente che va a buttarli ai cani. Stiamo parlando di persone umane, stiamo parlando di una ferita atroce. Questa è la mafia nigeriana lì, in 700 case abbandonate, cioè lì c'è tutto un panorama di billette costruite per le vacanze, lasciate al degrado, dove si sono stabiliti questi clandestini. In territorio difficilmente, immaginiamo un commissariato che ha 36 agenti, 36 agenti, per una popolazione ufficiale di 20.000 abitanti raddoppiata dai clandestini. Però si tratta di un posto bellissimo, perché lungo il mar Tirreno, insomma, sarebbe un posto dove il turismo dovrebbe invece farla da padrone. Il contrasto tra questa bellezza e questo orrore ci fa riflettere, Sra. Eugenia. Molto. E noi veramente di fronte a questa realtà, soprattutto come donne, io mi sento ribellare, proprio perché noi donne dovremmo essere veramente la forza trainante da dire no. Le nostre giovani donne non possono essere trattate in questo modo, perché veramente hanno voglia di vivere queste donne, hanno voglia di avere un futuro, di avere una vita, di avere dei figli, ma come li abbiamo ridotti? Per i nostri interessi, per i nostri guadagni, per il nostro benessere, ma questa davvero ci mette in questione. Abbiamo, sì, ci mette in questione. Abbiamo una responsabilità grande. La prima è di spalancare gli occhi e di vedere. Nella zona di cui stiamo parlando, in quel lembo di territorio, opera Don Carmine Schiavone, direttore della Caritas a Diocesana di Aversa. I nostri colleghi del TG di TV2000 sono andati ad intervistarlo, in merito proprio alla vicenda da cui siamo partiti. Ascoltiamo. La cornea, un rene e altri organi venduti per un passaggio in mare. Per raggiungere un sogno occorre però prima vivere un incubo. È questa la realtà che alcune donne provenienti dall'Africa hanno raccontato a un prete di frontiera, Don Carmine Schiavone, responsabile della Caritas di Aversa, in provincia di Caserta. Una ragazza in particolar modo mi colpiva perché mentre raccontava ad occhi bassi questa vicenda diceva per noi la libertà costa tanto, è cara, perché coinvolge non soltanto la nostra mente, il nostro cuore, i nostri sogni, ma coinvolge il nostro corpo. E da qui poi racconto di alcuni che per arrivare in Italia hanno dovuto vendere alcuni organi non vitali evidentemente per poter attraversare serenamente il mare. Ma non è solo per pagarsi il viaggio che le ragazze vendono i loro organi. Spesso sono costrette, semplicemente per sopravvivere in Italia, a dare parti di loro stesse in operazioni pericolosissime per ripagare la criminalità che le ospita. Un rene, in questo mercato dell'orrore, vale 5.000 euro. Le storie raccolte da Don Carmine arrivano quasi tutte dalla zona di Castelvolturno dove le donne, provenienti per lo più dalla Nigeria, prima di trovare la libertà, sono costrette per anni a prostituirsi. Chi arriva qui arriva perché vuole dare uno sviluppo diverso alla propria vita e non si aspetta di trovarsi dinanzi a un fuoco di una notte fredda seduta su di uno sgabbello di fortuna a vendere il proprio corpo. Le parole di Don Carmine sono terribili perché danno il là ad uno scenario che sembra davvero vicino all'inferno. Sì, e queste donne vivono l'inferno tutte le notti e tutti i giorni in un paese cosiddetto emancipato, in un paese cristiano, in un paese cattolico, in un paese dove tutti sognano di avere un futuro e queste donne si trovano in questa situazione. E allora ecco per poter essere molto più vivi e anche poter incidere sul modo di spezzare questi catene che noi quando abbiamo la prima volta che abbiamo incontrato Papa Francesco. Abbiamo detto a lui, eravamo un gruppo di suori che da anni si occupano di questa realtà, tra cui suor Rita Geretta che vive proprio a Caserta, che è una bellissima casa di accoglie. E adesso ospite qui siamo noi. Sì, appunto. E allora insieme siamo andati dal Papa e gli abbiamo fatto delle richieste. Prima di tutto abbiamo chiesto al Papa una giornata mondiale contro la tratta di essere umani. E se poi abbiamo detto se potevamo anche suggerire un giorno che ci sembra dato, la giornata di Santa Bachita. Bachita che era, lei una schiava. E allora è stato molto bello perché il Papa ci ha accolti, ci ha parlato. Qui è l'ultimo incontro che abbiamo avuto con Papa Francesco, che gli abbiamo presentato uno dei regali che abbiamo dato alle donne, alle donne di Ponte Galeria per il giorno di Natale. E questo è stato molto bello. Abbiamo invitato il Papa, Papa Francesco, venga a Ponte Galeria a vedere la sofferenza di queste donne. Perché noi, per aggiustare i nostri sistemi, prendiamo queste donne e le portiamo a Ponte Galeria. Così non sono più sulle strade, non ci danno più fastidio. Sono rinchiuse lì dentro. Ma rinchiuse dove? Nelle gabbie. Ma noi non possiamo... Rimosse dallo sguardo. Così, tolte dallo sguardo. Allora abbiamo detto a Papa Francesco, vieni a vedere che cosa sta capitando a Ponte Galeria in questo famoso centro di identificazione e di espulsione. E allora forse qualche cosa potrebbe cambiare. E noi speriamo che Papa Francesco possa ascoltare questa nostra voce, questo nostro grido, che possa venire a trovare queste donne che vivono sei mesi, nove mesi lì dentro in un abbandono assoluto. Hanno solo un letto in attesa che qualche cosa capiti. E lì è un'altra morte, perché sono ragazzi di 18, 19, 20 anni che hanno voglia di vivere, hanno voglia di offrire... Come giusto che sia. È suo, è appunto, e sono lì dentro in attesa, non sanno che cosa capita di noi. Noi raccogliamo questo grido e raccogliamo la speranza anche che lei ha espresso e che sono sicura condividono anche le persone che ci seguono ogni giorno con attenzione e partecipazione, Simone. E allora li coinvolgiamo, condividete con noi le vostre riflessioni sul tema di oggi. Vi lascio subito i nostri contatti, la nostra mail siamo noi, chiocciolatv2000.it, il nostro numero WhatsApp, scriveteci oppure inviateci un breve vocale 348 30 70 345, oppure il nostro numero verde 822 88 96 e venite a trovarci anche su tutti i nostri social. Vi aspettiamo. Grazie. Adesso noi cerchiamo di approfondire tra pochissimo ancora di più la notizia del traffico internazionale di organi. Torneremo a parlare però della donazione di organi che è importantissima. Tutto questo lo faremo naturalmente dopo la pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Tra poco. Torniamo in studio, siamo noi, stiamo parlando di donne ridotte in schiavitù ma anche di quella notizia terribile, ipotesi ancora da verificare di un vasto traffico internazionale di organi. Massimo, con ipotesi molto solide di organi venduti per pagarsi il viaggio, addirittura insomma estorti, migranti spariti, presumibilmente uccisi perché si asportassero quegli organi. La certezza in mezzo a queste ipotesi è non la spregiudicatezza ma proprio la ferocia con cui si opera. abbiamo a che fare con una delle organizzazioni criminali più feroci al mondo molto simile alla mafia cinese tra l'altro con la differenza che la mafia cinese normalmente si nasconde di più. Noi immaginiamo che da Lagos e da Benin City queste ragazze vengono smistate, portate, in genere pagano una cifra pagano 15.000, 20.000, 30.000 euro che devono ripagare prostituendosi. Molto spesso lo sanno. Un prezzo di una libertà che non riconquisteranno mai. Mai, mai, credo mai successo. L'organizzazione è strutturata su vari livelli. C'è un livello di capomandamento che viene chiamato Capone in onore di Al Capone, abbiamo fatto scuola Capones e a livello più basso le Mam'an che sono spesso ex prostitute che controllano queste ragazze. Poi c'è un aspetto che tutti conoscono, forse più feroce, quello esoterico, il juju. Ci tengo a dirlo, si dice riti voodoo. Il voodoo è una religione, è la religione ufficiale del Benin. Lo juju è la parte ombra, la stregoneria. Gli vengono tagliate le unghie, i capelli, i peli, il sangue mestruale. Viene usato per queste stregonerie e le ragazze sono terrorizzate. Sono terrorizzate anche perché se provano a scappare così le rappesaglie le fanno sulla famiglia. Traffico di organi. La testimonianza del sacerdote della Caritas probabilmente si riferisce a quello che accade prima che partano. Cioè chi non può pagare la cifra o non può impegnarsi perché la cifra non ce l'ha nessuno viene mutilata lì. Che vengano effettuati e spianti qui io non ci credo neanche un po'. Per una serie di motivi ovvi. Il donatore deve essere compatibile, la signora ce lo insegna. Deve essere in ottima salute. Deve essere vivo perché un organo, solo la cornea si può trasportare da un cadavere, può remi e tutto il resto, no. E soprattutto l'organo va trasportato con mille cautele immediatamente a chi lo riceve. Possiamo pensare che venga caricato su un aereo di linea, passare i controlli di sicurezza e arrivare a New York è assolutamente inconcepibile. Cosa è concepibile, ahimè, è un'altra ipotesi investigativa. che queste ragazze spesso sono incinte, partoriscono e i bambini, i neonati, possono essere usati per questo traffico. Spaventoso. Ma vivi, spediti lì. Mamma mia. Come metodi che no. Questo è un altro scenario. È terribile. Mi duele parlarne ma è così che funziona. Potrebbe funzionare. Questo è vero perché dicono magari alla mamma il bambino è morto, è morto il bambino quindi la mamma non lo vede e il bambino invece è vivo. Ecco questo è il trucco che viene usato sovente con queste donne. Ecco vanno a partorire, vanno in sala parto ma viene fuori solo la mamma e dicono mi spiace ma il bambino è morto e quindi sarà dato sepoltura. Ci state descrivendo un inferno che abbiamo sotto gli occhi e che non vediamo. In un paese civile. Dove il denaro, il profitto regolano ogni cosa. Tutto. E dobbiamo aprire gli occhi, la mente e il cuore per poter capire questo. Mi chiedevo la coscienza che fine avesse fatto. Guarda, neanche più esiste. Non esiste più. Noi speriamo che si possa risvegliare. Un senso umano. Un senso umano. Ma come è possibile che noi persone umane donne soprattutto ecco io vedere queste donne sfruttare altre donne dico allora noi dobbiamo essere donne a favore di queste donne. Ed è per questo che noi come gruppo di religiose di diverse nazionalità che parlano diverse lingue ecco abbiamo creato quest'unione di religiose che si occupano di questo. A Ponte Galeria come in altre cose. Sempre presenti. Ogni sabato poi siete lì diceva Sorogena a telecamere spente diamo fastidio anche ai poliziotti ma ci siamo sempre. È così. Senta Petrine tra poco torneremo a ricordare veramente quanto c'è di bello nella donazione così anche come è disciplinata dalla legge 91-99 in Italia quindi torniamo a uno scenario di assoluta legalità. però è chiaro che vanno verificate le notizie più drammatiche con cura noi vorremmo chiederle se vi risulta che ci sia in effetti un circuito parallelo di vendita di organi a quello legale. Allora in Italia lo escludo a priori. Voglio dire ecco sentire che ci sono parti in ospedale in Italia e spesso i bambini partono lo escludo veramente a priori. Allora dal punto di vista legale il nostro paese è veramente tutelato in questo. Certo la richiesta di organi è molto più alta della disponibilità e questo voglio dire forse in altre parti del mondo voglio dire queste cose queste cose probabilmente esistono. Massimo lo ricordava queste notizie con queste notizie probabilmente esistono voglio dire ecco in Italia ecco rivediamo nelle regole legali in Italia la donazione avviene in strutture sanitarie pubbliche i trapianti vengono fatti in strutture sanitarie pubbliche la legge 91-99 ha regolato in maniera veramente certosina tutte le fasi anche voglio dire la scelta del ricevente veramente è la legge italiana da questo punto di vista è una delle leggi migliori. Cioè attualmente come funziona? Prima c'è stato un periodo in cui era il silenzio assenso ma questo non è più valido. Allora la legge 91-99 prevedeva il silenzio assenso che voleva dire che se uno non diceva niente era un sì. Questa cosa non è mai stata diciamo ufficiale nel senso che esiste l'articolo 23 che è una norma transitoria che dice se la persona in vita ha espresso una volontà qualunque essa sia perché sia favorevole sia negativa questa volontà viene rispettata. Se invece la persona in vita non ha espresso nessuna volontà nel momento del decesso viene chiesto la non opposizione agli aventi diritto e anche questi diciamo gli aventi diritto sono persone previste dalla legge il coniuge i genitori i figli maggioregni eccetera. Quindi diciamo per rendere ancora più chiaro il tutto voi suggerite per evitare delle scelte molto dure molto difficili che pesano poi su familiari in un momento drammatico che forse è meglio manifestarla con la volontà. Sì allora Aido voglio dire da 45 anni è impegnata per informare correttamente i cittadini affinché possano fare la loro espressione di volontà in vita questo perché? Perché il consenso è una scelta personale ognuno deve disporre del suo corpo come meglio crede. La seconda cosa che noi diciamo sempre è scegliendo in vita facciamo un regalo a chi altrimenti si trova in un momento di dolore a dover decidere. Anche quello. Eh per cui voglio dire ecco facciamo un regalo ai nostri ai nostri familiari e decidiamo noi per noi. C'è il sito per tutte le informazioni www.aido.it Per essere ancora più informati c'è un messaggio sulla donazione Simone? Sì Massimiliano ci è appena arrivato un messaggio da parte di Rosa anzi in realtà ce ne stanno arrivando tantissimi però soffermiamoci su quello di Rosa che ha appena scritto mio figlio ha ricevuto un cuore e una nuova vita grazie alla generosità del suo angelo è stato un dono prezioso e da mamma voglio dire solo un'unica e semplice parola grazie. Bellissimo questo lo diciamo anche noi grazie lei che insomma ne ha viste tante anche in senso positivo che cosa significa per una persona che magari affronta il dolore estremo della perdita di un figlio di un ragazzo di una persona giovane poter donare poter donare l'organo allora dire di sé la donazione dopo la perdita di un caro vuol dire accendere una luce in un momento buio vuol dire dare un senso a quella perdita che senso non ne ha per cui le testimonianze che noi abbiamo delle persone che hanno detto di sì se dovessimo trovarci nella stessa situazione diremo di nuovo di sì perché questo in qualche maniera ci ha diciamo ci ha aiutato ad accettare maggiormente questa vita il nostro caro non c'è più però grazie al suo dono altre persone vivono nel ricordo del mio caro l'8 febbraio sono i geni della giornata mondiale contro la tratta mancano pochi giorni allora io ne approfitto tra virgolette per chiederle chi oggi ancora oggi è costretto in strada chi è costretto in strada la richiesta a causa della richiesta dall'enorme richiesta queste persone sono costrette sulla strada sono giovani straniere la maggioranza minorenne persone che vengono con un sogno e poi si trovano in questa situazione questa giornata ha come scopo in modo particolare l'abbiamo chiesta la prima volta che abbiamo incontrato Papa Francesco abbiamo chiesto questa giornata ecclesiale da svolgere soprattutto nelle nostre parrocchie nei nostri ambienti perché sembra che noi siamo esonerati da pensare a queste situazioni invece è proprio lì che noi dobbiamo sensibilizzare informare perché le abbiamo sulle nostre strade e allora quest'anno è la quinta giornata mondiale contro la tratta di esseri umani che Papa Francesco ci ha concesso proprio dopo questa visita nel giorno dell'8 febbraio in cui si celebra Santa Bachita che era in origine una schiava era una schiava Massimo è importante una giornata così anche perché il fenomeno della prostituzione è un fenomeno un business brutta parola che non conosce crisi diffuso nord sud ovunque con un'età media ce lo diceva su Eugenia delle ragazze che scende sempre insomma c'è una strada lunga da percorrere molto lunga anche perché è un fenomeno che è in crescita non è in regresso ricordiamo che tradizionalmente nella malattia aggiungiamo una cosa Massimo scusa perché l'ho detto con chiarezza su Eugenia questo mercato esiste perché c'è la richiesta certamente su questo bisogna possiamo aggiungere che ci indigniamo quando vediamo dei migranti per la strada e se vediamo delle ragazzine sembrano farci né caldo né freddo purtroppo ci siamo abituati dicevo Maria Antonietta diceva per abolire la prostituzione bisognerebbe abolire gli uomini non arriva tanto però di sicuro se ci sono 9 milioni 9 milioni in Italia di esseri umani che si prostituiscono maschi e femmine di tutta l'età spesso minori e certo se non ci fosse quella domanda sicuramente non ci sarebbe ma cosa è cambiato nel terzo millennio che sono arrivate le grandi organizzazioni criminali normalmente lo sfruttamento della prostituzione è una faccenda di bassissimo livello c'è un brutto termine che si usa nella mala romana io non lo dico però insomma indicava proprio il livello più basso ma non solo a Roma a Torino a Milano la vecchia malavita sdegnava gli sfruttatori poi sono arrivati prima dall'est polacchi e albanesi che hanno fatto un piccolo business e poi questa dannatissima mafia nigeriana che ne ha fatto un business su grandissima scala che sta dovunque Torino Bologna Milano Roma Castelvolturno dovunque quindi ci sta dicendo diventa un'azione di contrasto alla criminalità organizzata molto molto importante che impegna indagini complesse personali io temo fammi dire che noi l'abbiamo un po' sottovalutato questo aspetto troppo impegnati soprattutto al sud nella lotta contro le cosche tradizionali la Calabria Napoli la Sicilia un po' gli immigranti in fondo e non ci siamo resi conto che ci stavamo allevando veramente una sette nel seno io voglio tornare alla clientela lei su regina ha mai incrociato dei clienti pentiti a Benin City no ma in Italia in Italia li ho incrociati e ha anche avuto modo di poter interloquire con loro perché noi andando sulla strada abbiamo la possibilità anche di incontrare queste persone e quindi di aiutarle a capire vedete anche noi dobbiamo anche capire questa situazione che a volte ci indigniamo e facciamo tante polemiche perché le 49 persone che sono sul barcone che non sanno dove attaccare per poterci e poi dopo 49 persone una polemica da non si dire e non pensiamo le migliaia migliaia di persone che sono sulle nostre strade e di cui nessuno dice niente perché sono lì a servizio di qualcun altro ha fatto bene ricordarcelo tutto questo con molto sdegno però voi come associazione Slaves Humor avete avviato un programma nuovo importante efficace di rimpatrio di chi lo desidera però posso chiedere una cosa su rimpatrio ma queste ragazze che si lasciano alle spalle l'orrore poi che cosa le aspetta quando tornano a casa rischiano qualcosa riescono veramente a rifarsi una vita ecco quando ritorno a casa noi quello che facciamo non le buttiamo così allo sbaraglio vengono accompagnate prima di tutto vengono accolte da comunità di suore che lavorano collaborano con noi collaborano anche con il NEPTI che è proprio la polizia locale perché la famiglia deve essere protetta quindi c'è tutto un lavoro di recupero queste persone ritornano ad essere nuovamente persone pochi secondi Simone mi raccomando veloce veloce cominciamo da Barbara è una realtà orribile che esiste da anni i primi colpivoli siamo noi cittadini non solo alimentiamo questo mercato dell'orrore ma facciamo anche finta di non vedere per questo voglio ringraziare Suor Eugenia per il suo straordinario lavoro e chiudiamo con Paolo il traffico di organi è orrore la donazione un immenso gesto di generosità alimentiamo il bene e lasciamo stare il male che bella la donazione no? ricordiamolo un gesto d'amore un semplice sì che porta al ritorno alla vita di tante altre persone e noi vogliamo concludere su questo gesto d'amore grazie grazie a tutti i nostri ospiti grazie per averci fatto comprendere quello che dobbiamo vedere grazie noi torniamo domani come sempre a domani grazie